Sì, tra due mesi. Quando apriva il bimbo è tutto pronto. Venite, non è troppo. Vieni a novembre. Alla nonna ne dà. C'è anche troppo, anche quello. Troppo? No, c'è anche quello. Mandi la patata! Ah no, che buono sentate! Come lo intite, dì? Se ci vanno a vederlo. Igor! No! D'olivo? 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 Va bene? Non lo posso, dai! Guarda! Lo faccio? Tutta la famiglia a complejo. La famiglia a complejo. La famiglia è più e più, perché... C'è il nascituro lì, eh? C'è il dolivino che sta arrivando? O la dolivina? Cosa sarà? Да! 叔母 c***o. Ma c***o? Ma c***o? Ma c***o? Ma c***o. No, si fa c***o. Ma c***o まずco, Lei, mascolino... No, non le farei l'angную. Ma non le farei l'angarete, non le farei l'angarete. Non lo Revolutionary. STという... vast. ...and he invited, who do you do?